Oh, finalmente è lunedì, inizia una nuova settimana di trading e di mercati, questa è una delle cose che mi piace di più in assoluto, il lunedì, perché ricomincia tutto, il 90% della popolazione odia lunedì, io sono felice come non mai. E lunedì, altra cosa positiva, è il giorno del video sugli indicatori. E volevo prendere spunto da ciò che è successo nella diretta di mercoledì scorso, proprio per affrontare un tema, un indicatore nuovo. E infatti ho scoperto che c'è un indicatore di cui non avevo mai sentito parlare e volevo parlarvi di questo. Come affrontare un indicatore nuovo? Come capirlo? Come codificarlo? Come applicarlo? Come ottimizzarlo? Parlo oggi dell'alligator indicator? Alligator? Vabbè, è un indicatore, d'altronde gli indicatori sono centinaia, forse migliaia, quindi è assolutamente probabile questa cosa. Quindi voglio darvi una guida pratica, perché poi affrontiamo proprio questo indicatore oggi, su come affrontare un nuovo indicatore. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video, io sono Francesco Puzzi, insegno come guadagnare su mercati senza diventarne schiavi. Mi raccomando, l'appuntamento di lunedì prossimo, 19 settembre, link in descrizione, è eccezionale, fantastico, incredibile, non ho altro da dire, iniziamo subito. La prima cosa che si fa, che io faccio quando scopro un indicatore totalmente nuovo è cercare online. Ci sono sempre una caterva di siti molto utili per spiegare, ad esempio, l'indicatore alligator. Quindi facciamo esattamente come farei normalmente all'approccio di un indicatore nuovo. Uno dei siti più utili in assoluto è Investopedia, è in inglese ma col tasto destro, trasletto italiano, si può capire senza alcun problema. Ma ho trovato un articolo molto più interessante, che spiega esattamente il mondo degli indicatori. Quindi leggiamolo velocemente insieme. Per questo motivo, questa guida, andremo a spiegarti cosa è e come funziona un degli indicatori più impiegati tra i traders, l'indicatore alligator. Questa cosa mi è un po' dubbia, perché io non l'ho mai sentito nominare, e quantomeno una decina d'anni sui mercati ce l'ho, poi per carità non sono discrezionale. Però, insomma, un indicatore complesso. L'indicatore alligator fu creato nel 95 da Bill Williams. Per quanto la struttura sia semplice, l'indicatore alligator permette di prendere in considerazione due approcci differenti al trading online. Ha realizzato l'indicatore, bla bla bla, per utilizzarlo insieme all'Awesome Indicator e al Market Facilitation Index. Aggiungiamo indicatori, teniamo solo l'indicatore alligator e va bene così. Comunque, come funziona? L'indicatore alligator è composto da tre medie mobili, che compongono un grafico somigliante alle mascelle di un alligatore. Ok, da qui il caratteristico nome, le tre medie mobili sono labbra dell'alligatore, denti dell'alligatore e mascelle dell'alligatore. Ok, ok, quindi sono 5, 8, 13 periodi le medie mobili. E c'è una cosa importante. Ok, quando le linee sono intrecciate, infatti si dice che l'alligatore sta dormendo, ovvero il titolo è in trend laterale. Quando le linee invece divergono, si dice che l'alligatore ha spalancato la bocca, pronto a mangiare. Adesso, lupo, voi utilizzate l'indicatore alligator? Pensate a queste cose quando lo vedete? Fatemi sapere nei commenti. Pa, 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 come investire? La cosa importante da capire è che le tre medie mobili, forse c'è scritto sotto, vabbè, sono numeri di Fibonacci. Questo è importantissimo, è stato detto, non mi ricordo neanche più dove, ma è stato detto. Quindi 5, 8, 13 vi si tiene in considerazione perché sono numeri di Fibonacci. Va bene, abbiamo tutto quello che ci interessa. Tre medie mobili smussate, in realtà, questa è una cosa un po' croccante direi. Qua non lo specifica, ma io lo userei così, semplicemente cercando di prendere i trend. In questo articolo, tra l'altro, c'è scritto, ovviamente, molto di più. C'è scritto una cosa assolutamente vera, cioè che la maggior parte degli strumenti finanziari sta in trend pochissimo, il 20, 15, 20, 25, 30% al massimo. Per il resto è di lateralizzazione, di lateralità, è assolutamente vero. Quindi ci sta come tipo di analisi. Va benissimo. Ma in sostanza sono tre medie mobili, quindi possiamo utilizzarle in questo modo. Bene, la prima cosa è capire, appunto, l'indicatore. Da cosa è composto e cosa dovrebbe fare. Ti dico già, chiaramente, che il cosa dovrebbe fare, spesso e volentieri, è solo narrativa. L'indicatore dell'alligatore, cioè sono tre medie mobili. È molto condito, sempre il tutto, come Ichimoku, che l'ha fatto in giapponese perché face... Eh, sono solo derivate del prezzo. Cerchiamo di spurgare un pochettino le narrative intorno agli indicatori, però sono tre medie mobili e le possiamo utilizzare. Lo step successivo è capire come utilizzarle. Anzi, lo step successivo è come codificare questo indicatore. Per fortuna è un indicatore molto semplice, perché, come abbiamo detto, ci sono tre medie mobili. Quindi noi codifichiamo le tre medie mobili con... Io ho utilizzato le smoothed, ma anche le medie mobili normali, senza alcun problema, e le andiamo, appunto, a codificare. Si può codificare in variabile o no, ma magari se vi chiedete, ma come si fa? Come posso partire? Ma la programmazione su Easy Language è molto semplice. Cioè, io ripeto sempre, non sono un programmatore, se riesco a scrivere io i codici, veramente ci riesce chiunque. Per partire, consiglio i nostri corsi, Trensco, Chiaro per Principianti o Beck Tecnica, in cui spiego le basi, e spiego anche il metodo, perché poi, da un certo punto in poi, è solo copia e incollare, usare gli stessi metodi applicati in modo diverso. Insomma, è abbastanza facile fare le cose normali. Poi, per carità, Easy Language è allo stesso tempo un linguaggio di programmazione molto potente, quindi si possono fare cose estreme, ma non ci interessa, ci servono le cose di base. In questo caso abbiamo programmato, ho programmato, la Ligator usando i ritracciamenti. Ok? Questa era il consiglio, era la domanda che mi era stata fatta in diretta per Beck Tecnica, quindi teniamo questa. Possiamo anche provare a riscriverla, ma comunque abbiamo un ritracciamento dato dalle medie mobili inferiori rispetto alle medie mobili più veloci, inferiori rispetto alle medie mobili più lente. Ok? Questo è un po' la sostanza. Ah no, ecco, ho sbagliato, è esattamente il contrario. Quindi abbiamo condizioni in cui, lo segno qua, le medie mobili veloci sono maggiori delle medie mobili lente. E abbiamo quindi la media mobile lenta a 13 periodi, la media mobile media a 8 periodi, e la media mobile veloce a 5 periodi. Ok? Questo è un po' il setup. Quindi la condizione long è quando la media mobile veloce è più veloce, è più, è più, è superiore a lenta e media, eccetera, eccetera, e il contrario è per andare short. Quindi si cerca di entrare in trend. Cioè, visto che entriamo in trend, facciamo un ingresso market, un po' neutro, e abbiamo il nostro codice. Codice grezzo, scritto in maniera grezza, ripeto, spesso e volentieri uso le variabili, ma non ci importa in questo caso. Questa parte finale va utilizzata, dal mio punto di vista, sempre quando si testa un indicatore, perché l'uscita è molto importante, lo stop loss e il take profit sono molto importanti, e quantomeno all'inizio è utile utilizzare in questo modo le uscite, perché sennò lasciamo un po' tutto in preda un po' al caos. Quindi, condizione long è quando abbiamo un trend, dato, cioè si apre la mascella dell'alligatore, secondo, insomma, secondo il creatore si apre la mascella dell'alligatore, quindi compriamo. Perfetto. Abbiamo il nostro codicino, perfetto. Applichiamolo a degli strumenti finanziari. Se devo testare un indicatore da zero, nuovo, che non conosco, potrei anche non fare attenzione al future su cui voglio testarlo. Potrei testarlo su tutti i future, su nessuno, potrei testarlo su tutte le azioni. In realtà è importante capire i singoli future, che caratteristiche hanno, perché così andiamo a focalizzarci su quello che serve, su quello che non serve, e poi lo lasciamo da parte. Ad esempio, un indicatore che dovrebbe essere di trend, non ha molto senso applicarlo su un future tipo stocks. Lo stocks, ottimizziamo le uscite, è giusto per fare le cose per bene, da 1 a 5 siamo su time frame day, li ottimizziamo, stop loss e take profit, e i parametri dell'alligator lo lasciamo così com'è, io sospetto che il risultato possa non essere positivo, semplicemente perché l'indicatore alligator dovrebbe prendere il trend, e noi l'abbiamo scritto, codificato, proprio per prendere il trend, perché abbiamo un triplo incrocio di media mobile smussata, e quindi è difficile che possa funzionare su un future, così tanto mi reverting come lo stocks. Questa è una cosa che è fondamentale, un po' perché per fare soldi bisogna capire lo strumento finanziario su cui lavoriamo, un po' per la natura, un po' per tutto il metodo che spiegano nel 3 disco chielero per principianti, il fatto sta che la controprova è che il miglior risultato dato a questa ottimizzazione è molto, molto, molto negativo, quindi l'indicatore alligator non funziona, beh, no, non funziona dove non deve funzionare, non avrebbe dovuto funzionare sullo stocks, visto la natura min reverting dello stocks, è assolutamente normale che sia così, quindi che l'indicatore alligator sia sulle mascelle dell'alligatore che si aprono o si chiudono, ci importa relativamente, ci importa cosa dovrebbe fare, che tipo di segnale dà e lo strumento finanziario su cui lo vogliamo applicare, non importa nient'altro, ok? Ad esempio su oro su un'ottimizzazione molto semplice, molto banale, semplicemente con le uscite, il risultato è questo, che non è particolarmente clamoroso, particolarmente positivo, non è un trading system infinito, ma comunque 103 mila dollari è molto differente rispetto allo stesso risultato, allo stesso test su stocks, proviamo ad esempio su soia, che è un pochino più complicato, ma è sempre abbastanza trend follower, facciamo un'ottimizzazione, per fortuna siamo daily, quindi l'ottimizzazione è molto veloce e vediamo i risultati, e chiaramente già è uscito un altro problema immediato di questo indicatore, e lo probabilmente lo state capendo anche voi, su soia abbiamo un risultato sicuramente molto più positivo, anche questo non è un trading system che possa essere tradato, perché l'average trade non è eccezionale e il drawdown sono quasi 40 mila dollari, che non è il massimo, e questo effettivamente ci da, ci scopre il fianco su un altro problema di questo tipo di indicatori, indicatori complessi, fatti da tanti parametri, 5, 8, 13, almeno le uscite di stop loss sono 3, 4, 7 parametri, 7 vincoli in qualche modo, ma che non creano un sistema finito, e se non creano un sistema finito vuol dire che io se voglio tradare questo sistema su oro, devo metterci quantomeno altri filtri, e quindi aumentare la complessità e aumentare l'overfitting, questi indicatori molto complessi, molto sofisticati, molto esotici, sofisticati magari no, questo non è sofisticato ma molto esotici, magari sono anche carini, ma spesso e volentieri non ti danno un risultato finale e spongono il fianco all'overfitting, allora, prima di mettere altri filtri e di incasinarci la vita, proviamo a lavorare con quello che abbiamo, almeno questo è quello che faccio io, tipicamente me ne frego altamente dei valori consigliati, fibonacci o non fibonacci, noi sappiamo che non ce ne frega assolutamente niente, quindi andrei a ottimizzare le medie mobili, la lunghezza delle medie mobili, ad esempio la veloce potrei ottimizzarlo 15 con 1, la media da 10 a 30 con 5 e la lenta da 10 a 100, con 10 addirittura, sono 700 casi e va benissimo, così ottimizziamo i parametri che abbiamo già a disposizione, senza prendere quelli dati per scontati e magari aggiungendo dei filtri meno in fase successiva. Beh, anche solo ottimizzando le singole medie mobili ho tenuto fuori dall'ottimizzazione le uscite e lo stop loss e il take profit che andranno comunque rifatti, la performance è sicuramente molto migliore, è tradabile questo sistema? Beh, probabilmente ancora no, però funziona molto meglio, quindi prendere e dare per scontato i parametri solo perché il creatore dell'indicatore voleva i numeri di Fibonacci, ma non importa questa cosa qua, ok, bisogna sempre ottimizzare, quindi, il step numero 1 è capire che cosa vuole fare l'indicatore, in questo caso vuole prendere delle tendenze, delle tendenze, dei trend, quindi, il primo modo per utilizzarlo è su future di trend, future che, ad esempio, su Coda Arancia probabilmente vedrà dei risultati positivi, perché è un future spesso in trend, lo step numero 2 è validarlo, vediamo, l'ottimizzazione su Coda Arancia con i parametri standard, eh, secondo step è, validare, no, ottimizzare, oh, su Coda Arancia stranamente va male, questo non me l'aspettavo, ma probabilmente anche qua vanno ottimizzate le medie mobili, i parametri delle medie mobili, è codificarlo, codificare in easy language è molto semplice, è spesso una questione di copia e incollare, di prendere ispirazione, però bisogna imparare le basi, bisogna fare un po' di esperienza, ok, quelli che pensano di poter scrivere un training system complesso da zero senza capire il codice è un problema, perché il codice è spesso più infido di quanto non sembri, quindi bisogna partire dalle cose semplici, come spiego nel corso Trendsco Chielo per principianti, lettering system, semplici per poi complicare con l'esperienza, perché poi l'esperienza ti mette di fronte tanti fatti, e terzo, vedere come applicare questo indicatore, su che future, come ottimizzare i parametri di questo indicatore, visto che non sono mai fissi, mai standard, non fatevi ingannare, non esiste il 5, 8, 13, perché ci fai i bonacci, non esiste quella roba lì, d'altronde, se dei 5, 8, 13 è l'equivalente di una settimana, una settimana e mezzo e quasi 3 settimane di mercato, a 5 minuti, vuol dire neanche un'ora, sostanzialmente, un'ora e 5 minuti per la media mobile lenta, capisci che è molto differente questa cosa qua, e quindi va modificata in base al time frame, in base allo strumento finanziario, in base a quello che vogliamo fare. Detto questo, l'Alligator è un indicatore valido? Dal mio punto di vista, no, per individuare trend di medio, semplicemente si potrebbe utilizzare, non per banalizzare, ma si potrebbe utilizzare close maggiore di media mobile, come si dice, media mobile lenta, si chiama media mobile lenta, e questo è già un trend, quindi si potrebbe fare per il trend long così e per il trend short così, o al massimo si potrebbe fare un incrocio di media mobili, per carità, un incrocio di media mobili, la media mobile veloce che crossa o è maggiore o cross over la media mobile lenta e il contrario per il trend short, però capisci che io ho scritto neanche una riga di codici neanche completa con un parametro in meno semplificando di molto l'istruzione e il risultato molto spesso è simile, molto spesso va bene lo stesso, facciamo solo maggiore e minore vediamo un pochettino i risultati ma mancava la c ecco qua bisogna un po' perseguire quello che nelle scienze si chiama rasoio di Ockham cioè devo raggiungere il miglior risultato possibile nel minor sforzo possibile perché sennò tutto il resto non ha senso ok ottimizziamo al volo 4400 ok ottimizziamo al volo anche soia vediamo se c'è un risultato decente su soia ci mettiamo proprio veramente due minuti da 2 a 20 abbiamo fatto la lenta da 10 a 100 dai da 10 a 100 la lenta da 2 a 20 la veloce le uscite le lasciamo a 0 non ci interessano o ho sbagliato ho sbagliato l'ottimizzazione su oro perché non posso lasciare a 0 le uscite che lo scuda rifacciamo le uscite le lasciamo a 20 così non ci interessano ok e vediamo il risultato facciamolo anche su soia eh già c'è 171 quindi vuol dire che il mio esperimento funziona da 10 anzi no su soia no mi son rotto aspettiamo solo oro oro 171.000 profit 500 non mi piace tanto vediamo un risultato un po' più adeguato ordiniamo per net profit take profit 500 non va mai bene non ha senso vabbè prendiamo 1.500 dai 18 la media mobile veloce 70 la media mobile lenta risultato 128.000 sicuramente maggiore della Ligator e la equity line non è fantastica ma ci si può lavorare anzi ci si può lavorare come ci si può lavorare come il risultato è mediocre ma abbiamo scritto meno codice in modo molto più semplice quindi anche l'ottimizzazione nella validazione sono molto più efficaci ma questo è solo un esempio questo è solo un esempio del lavoro che faccio io quando approccio un indicatore nuovo quindi fammi sapere cosa ne pensi se utilizzi l'Alligator anche tu e come lo utilizzi su che strumenti lo utilizzi come lo codifichi che ne so commenta commenta condividi il video iscriviti al canale per non perderti tutti i video che facciamo ci vediamo mercoledì con un nuovo video e soprattutto ti aspetto per il webinar live del 19 alle ore 21 mi raccomando non puoi mancare link in descrizione tutti i link in descrizione quindi dacci un'occhiata alla parte della descrizione ciao buona settimana buon trading buon trading